Non lavoriamo mai soli. Abbiamo molti colleghi importanti per noi e sui quali contiamo. A cominciare dai macchinisti. Sono loro infatti che seguono le istruzioni da noi impartite attraverso i segnali. Se non ci fosse un dirigente del traffico ferroviario non potrei muovermi neanche di un metro. Lui mi dispone il percorso, guarda in avanti per me. Viaggio a 160 chilometri orari. Non so cosa ci sia 4 chilometri più avanti. Lui invece lo sa. Questo ci consente inoltre di assicurarci che i treni non si incrocino sul binario semplice indicato qui. Due treni non passeranno mai contemporaneamente. Se c'è un problema e i problemi non mancano vista la quantità di treni che circolano ogni giorno, occorre limitarne l'effetto affinché i viaggiatori siano toccati il meno possibile e arrivino a destinazione rilassati e tranquilli e soddisfatti del loro viaggio. Durante il lavoro entriamo in contatto con gli addetti alle manovre che in genere si riconoscono dagli abiti arancioni. Con loro impartiamo gli ordini affinché tutti i vagoni vengano inoltrati alla destinazione e sui binari giusti. Allora questo è il programma per gestire direttamente la circolazione dei treni. Se ad esempio c'è un team di addetti alle manovre per lo smistamento dei vagoni dislocati solo in una determinata stazione, la soluzione più semplice è quella di agire da qui, dato che abbiamo l'accesso diretto a tutti gli scambi e i segnali. Quindi siamo partners e facciamo affidamento l'uno sull'altro. Ci sono tanti treni e tanti passeggeri. Un treno può trasportare fino a 1200 persone e la responsabilità è immensa, visto che in gioco c'è la sicurezza dei viaggiatori. Ma è come in tutte le professioni, bisogna sapere ciò che si sta facendo. E poi esistono appositi sistemi per verificare che non vengano commesse sciocchezze.